ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con fave piselli e pancetta il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono piselli fave scalogno pancetta pasta corta pecorino prezzemolo sale pepe noce moscata olio ed acqua diamo il via alla ricetta siamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno lo facciamo dritare per 3 secondi a velocità 7 riunire sul fondo aggiungere l'olio azionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la pancetta i viselli e le fave aggiungere il bimbi per 5 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere il pepe il sale la noce moscata e l'acqua azionare il bimbi per 15 minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere la pasta amalgamare con la spatola facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 11 minuti 100 gradi anti orario velocità soft la pasta è cotta serviamola spolverizzandola con prezzemolo tritato e pecorino pasta con fava e piselli e pancetta grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.